Io sono già partito con la registrazione audio Siamo live Eccoci qua A proposito di lavoratori e di condizioni ai tempi, devo dire, pessime dei lavoratori Ma tu lo sai perché ho scelto questo audio, vero? Sì, mi pare di capire di sì, pare di intuire il motivo Va bene, vogliamo prima dare il benvenuto? Diamo prima il benvenuto Ciao a tutti ragazzi Benvenuti alla sesta puntata, la seconda live di Apericast Con me e Andrea Che è una scusa per ubriacarci in diretta mentre tentiamo di farli intelligenti Tu cosa bevi Andrea? Bevo, 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 bevo Stavo facendo partire anche il controllo incrociato di tutti i media, i potentissimi media Quindi salute Cosa bevi oggi? Vado avanti col Gene Fitz No scusami No, col Gin Tonic, perdonami Scusate Siccome sono snob Ho cambiato vino e oggi vado su una ribolla gialla Hai capito però Bene, bene Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere anche il cibo però Per la settima puntata voglio anche lo snack Come il settimo giorno che si riposa Benissimo, buona festa dei lavoratori Andrea Anche a te, anche a te Giacomo Come l'hai passata questa giornata di festa? Ma guarda, non ho fatto nulla Cioè sono stato in casa No, sai cosa, sto preparando la pizza Cioè l'impasto è lì a riposare E finito questo Quindi muoviamoci perché io devo impastare la pizza Devo farla mangiare Sono diventato bravito, sai Sto usando il metodo Sì, sto usando il metodo Quello che metti prima farina e acqua Lasci riposare più di mezz'ora Poi dopo Cominci a impastare con il resto della farina Aggiungi il lievito Poi aggiungi il sale Poi fa riposare due ore Poi dividi Insomma, mi viene decente Ed è incredibile perché io ho sempre stato un disastro con la panificazione Comunque sai che questa quarantena ci sta veramente Ma proprio Cioè rovinando Sai che cosa ho fatto io oggi? No Ho impostato la pizza Ma che metodo hai usato tu? Guarda, hai usato il metodo Maria Serino Che è una carissima amica chef Bravissima Di cui peraltro abbiamo anche realizzato un video sotto Natale Ti ricordi Bistro 58? Sì, me lo ricordo Lei, lei che è principalmente una carissima amica Ha avuto, e pensa a te, la pazienza infinita Insieme a un'altra amica Di insegnarci come si fa la pizza Partendo proprio dall'inizio, dall'impasto Noi non abbiamo iniziato oggi Abbiamo iniziato l'altro ieri Ma che metodo è? Cioè, è fantastico Guarda, non mi ricordo niente Spero solo che ne esca qualcosa di comestibile Perché sennò stasera siamo rovinati Tra l'altro stasera faremo la videopizzata in diretta Bene, settimana prossima potremo farla noi Cercando di tirare fuori qualcosa di decente E mi interessa quel metodo Giramelo Perché voglio provarci Cari spettatori Questo non è un podcast di cucina Potrebbe anche diventarlo Non credo Probabilmente di pessima cucina Almeno per quanto mi riguarda Per quanto ti riguarda Non è vero Sei bravo, tu sei bravo a cucinare Ho apprezzato varie volte i tuoi piatti Io sto solo imparando a panificare poco Va bene Iniziamo? Iniziamo con la storia? Sì! Di cosa ci parli oggi, Giacomo? Allora, visto che piacque tanto Ho avuto anche ricevuto tantissimi Commenti positivi Sulla prima puntata Sulla prima storia La prima opera di cui abbiamo Una notizia completa Cioè, ovvero L'epopea di Gilgamesh Sono andato a pescare Un'altra storia molto antica E pensate che È il primo racconto autobiografico Di cui abbiamo traccia Cioè, già ai tempi Si facevano le autobiografie? No, infatti non si facevano I tempi sono Si parla del 1500 avanti Cristo Circa Quindi vuol dire 3500 anni fa Vedi te E infatti questa è la prima La prima autobiografia Di cui abbiamo traccia Magari ce ne sono state 10 miliardi in precedenza Ma la prima che ci è giunta È questa E si chiama Le avventure di Sinue Oppure Sinue Non lo so come si chiama Le avventure di Sinue Senti, io mi introduco E ti interrompo E lo farò per tutta la puntata Quindi arriverai a due anni Secondo me Perché voglio giusto spiegare Che siccome siamo in live Allora, ogni tanto Io guardo alla mia sinistra Perché lo faccio? Perché giustamente Gli esperti di digital E di social media marketing Ci hanno detto Ma scusate Se fate il live E non rispondete ai commenti Che di live sarebbe E quindi ogni tanto Io butto un occhio Per vedere Se qualcuno ci scrive qualcosa E intanto ne approfitto Per salutare Daniela Roberta Ciao Roberta Ciao Daniele Sandra Sandra Siete fuori come un balcone Per fare la pizza Non serve affatto Fare ste menate Eh, lo sapevo Che non avrebbe apprezzato Scusa mamma Scusa Non vedo l'ora Di assaggiare Di assaggiare La tua spettacolare pizza E salutiamo anche Il grande batterista Bradascio Un insegnante fantastico Che ci sta guardando In questo momento E sì, è vero Però si può fare la pizza In tanti modi Poi ognuno impara Il modo Cui riesce bene Cioè chi è bravo A farlo in 27 modi Io per ora Mi attesto in questo modo Qua poi Chissà Sandra Aspetto la tua ricetta Scrivimi Così la proverò anche la tua Magari mi riesce meglio Il tuo metodo E benissimo Non mi ricordo più Dove eravamo arrivati Ah sì All'inizio Sì non è Salute Salute Comunque sì La prima autobiografia È un racconto Non tanto lungo Mentre le poppia di Gilgamesh Sono un bel po' Di pagine Questo saranno Una quarantina Ti devo interrompere Di nuovo Giacomo Sarà una puntata Difficilissima Ale Kama scrive Proviamo a vedere Se rispondete Quanto fa 1315 Per 34 Allora Vediamola Veramente interattiva Aspetta Giacomo Chiediamo A Daniele Giudici Che ci sta Ascoltando E ci scrive Di rispondere 1315 Per 34 Vediamo Io vado a spanne No io vado a spanne Ti dico che dovrebbe fare Circa 38.000 qualcosa Più o meno Più o meno Più o meno 38.300 Giù di lì Va bene Torniamo Allora Torniamo alla prima autobiografia Vai Allora Va bene Innanzitutto Qual è la cosa figa Della letteratura Egiziana Che Nessuno legge ormai Praticamente Da parte di esperti Che i gerogrifici E tutti i vari sistemi Di scrittura Egiziani Sono Quelli che sono rimasti Vivi più a lungo Perché le prime testimonianze Di qualche segno Che non è stato neanche Come dire Decifrato Perché Erano sistemi Ancora Che non si sono trasmessi Risagono a 7.000 anni fa 7.000 Il primo gerogrifico Completo Di cui si è capito Significato È di 5.000 anni fa Che si chiama Tavoletta di Narmer E invece L'ultimo gerogrifico Di cui c'è arrivata Testimonianza È del 394 Dopo Cristo E si chiama Graffito di Esmet Acom Ed era l'ultimo Perché l'imperatore Teodosio Nel 391 Dicendo L'impero romano È cristiano E tutto il resto Deve scomparire Tutti gli altri culti Saranno vietati Quindi Le scritture Geologrifiche Erano Utilizzate Per celebrare Tutti gli dei Che ancora Si adoravano In Egitto E niente Furono chiusi i templi E quindi Pian piano Si perse la tradizione Quindi tu pensa È una letteratura Che ha vissuto C'è un tipo Di sistema di scrittura Che è durato 5.000 anni Lui la nostra latina Ne ha circa 3.000 Quindi siamo ancora C'è come dire Degli imberbi Giovini Super giovani Giacomo Posso chiederti una cosa Dimmi Puoi farmi una domanda Sì Una qualsiasi Hai il risultato Per caso Della domanda di prima Ma sei fantastico 44.710 Chiusa parentesi Prosegui pure Proseguo pure Benissimo Secondo te Questo Visto che è un'autobiografia Chi può averla scritta Questa autobiografia Secondo te Così a spanne Lui se stesso Lui Mi verrebbe da dire Ho vinto un premio Sì ma lui Chi era Secondo te Cosa poteva essere Uno che scrive Un'autobiografia Allora Uno che scrive Un'autobiografia Secondo me È O un medico Che erano Erano tenuti In grandissima considerazione Pensa che Quanta cultura Nell'antico Egitto Oppure uno scriva Qualcuno che scriveva No Non ci sei neanche minimamente Tu pensa che La prima autobiografia Che ci è arrivata È di un servo Veramente Sì Ma un servo Che sapeva scrivere Esatto Quindi probabilmente Fittizia la cosa Cioè qui è infatti Di battuta E non si scoprirà mai Perché temo Non troveremo Altre testimonianze Che ci dicano Chi fosse veramente Questo sinue Però era Il servo Del faraone Sete Pib Tavi Questo è il suo nome Alla nascita Poi come tu sai Benissimo Quando uno diventa Faraone Assume anche Un nome faraonico Per cui dopo Viene ricordato Un quel nome Quindi da Sete Pib Tavi Diventato Ammenamat Primo Perché infatti Lui fece Un cambio di dinastia Conquistò il potere Scalzò Quelli dell'undicesima dinastia Lui è diventato Il primo Della dodicesima dinastia Quindi lui era Un servitore Di questo Sete Pib Tavi Scusate Il mio gestione antico È un po' È un po' che non lo pratico Quindi sono un po' Tu come sei messo Giziano antico? Io Molto male Molto male Molto male Guarda Su quello un pochino Più recente Me la cavo Malissimo Ma su quello antico Proprio zero Sì Giustamente Sandra Marini Dice Era uno scriva Certo Sì Era Sì Diciamo che Nella Nella finzione Della sua autobiografia Si descrive Come servitore Di Ed è sicuramente Stato Sicuramente Era uno scriva Perché appunto Erano pochissimi Quelli che potevano scrivere E Quindi certo E Su Netflix È tornato Boris Mi dice Daniele Questa notizia Infatti Ho introdotto Abbiamo introdotto In mia moglie Il culto di Boris A mia figlia Tornando a questo Tizio qua Appunto Che succede? Qual è la trama? Costui Va col figlio Del faraone Che tale Sesostri O Sesostri Chi lo sa Va in Libia Perché Fanno le guerre Di espansione Gli egiziani Sempre che fanno Ste guerre di espansione A sud Ovest Est A nord Non tanto Perché in Grecia Non ci sono arrivati A navigare Non più di tanto Almeno E Però Tornando indietro Da questa campagna Di conquista Scopre Che L'imperatore Ammenemath Quello che Per cui stava Servendo Era stato ucciso Da una congiura E che quindi Era in atto Una guerra civile E lui Mentre sta tornando Dalla Libia Verso l'Egitto Con Sesostri Scappa Scappa E va via Si diventa Un esule E se ne va In Siria In effetti Si apre il poema E tu Mi perdonerai L'Egiziano Poi tu Se vuoi Puoi provare A tradurre Si apre così Ok Sono pronto Aspetta Vai I ripat Creatore di canali Con cui è giunto In Siria Dice Caro Nobile signore Io arrivo C'è stata la guerra È stato un casino E è pieno di riferimenti Alla cultura religiosa Egiziana Con Con tante allegorie Quindi è complessa Anche dal punto di vista Delle figure retoriche Usate Ci sono già più livelli Di lettura Tu pensa 3500 anni fa Narra la vicenda Ma in realtà Il passaggio del Mar Rosso Riguarda una divinità Egizia L'attraversamento Del Sinai È fatta Secondo degli schemi Che riguardano Le simbologie Di un'altra divinità Quindi comunque Puoi leggerla Se sei un esperto Io no Su vari livelli È in più interessante Perché cita Delle città Che poi Compaiono anche Nella Bibbia O comunque sono Attestate Storicamente Per esempio Biblos Che ora è in Libano E Khedem Che è in Siria Quello che ci fa dire Che probabilmente È tutta una finzione È che non sono citate Altre città siriane Che erano più importanti All'epoca Ma di cui probabilmente Gidiziani Non sapevano l'esistenza Perché i commerci Arrivavano fino a Khedem E poi dopo Lì c'erano Altre vie commerciali Che non includevano Gli egiziani Pensa un po' Benissimo E secondo te Cosa gli succede In Siria? Qualcosa Non di bello Giacomo Non lo so Sarà che in questo periodo Sto vedendo La terza stagione Di Babylon Berlin E mi sembra che tutto Stia andando a puttane No C'è Babylon Berlin? Sì Va malissimo Va malissimo Quindi non c'è neanche La speranza falsa Delle classiche Narrazioni Dei film americani Dove alla fine Anche se c'è la crisi Più violenta Se ti fanno vedere Che l'eroe Quasi sta per morire Alla fine tu dici Vabbè dai Mica muore Ma stai scherzando Tranne uno Ma non dico quale A chi non ha visto Avengers Endgame A me è piaciuto tantissimo E voglio assolutamente vedere Mi ricomprerò Sky Solo per questo Scusa l'interruzione Però non credo Che gli sia andata Benissimo in Siria Sbaglio? Sbagli Sbagli Perché Lui si propone Come servitore Al re di Siria Che si chiamava Quegli appunti Perché sono nomi Un po' complicati Con l'accadico Me la cavavo meglio Amuneshi Amuneshi Sembra una roba Amuneshi Amuneshi Sembra una cosa Un termine Dei dialetti Del sud Italia E comunque appunto Tra l'altro Sappi che la Siria Si chiamava Retienu Così Un po' di nozioni A caso E invece Amuneshi Dice va bene Dai dai Sì ci stai dentro Arrivi dall'Egitto Ma sì dai Vieni qui E lui Si impianta lì In Siria Diventa un personaggio Perché Poi C'è Lui Diciamo serve Questo signore Lui era già Un esperto di guerra Perché appunto Lui arrivava Dalla campagna Di Bibbia Fatta in Egitto In quell'epoca Nel 1500 a.C. Vittoriosa Quella campagna E Praticamente Diventa ricco Scusa Ti devo interrompere Perché abbiamo Purtroppo Il primo troll Della nostra Della nostra Trasmissione Aperica Aperica Live Si chiama Cristina Usai Che purtroppo Si sta lamentando Del fatto che Non ce li caghiamo Capito Sicuramente un troll Perché noi stiamo Salutando tutti E mi approfitto Per salutare Marzia Facchinello Ciao Marzia Giotie Addirittura Gianfranco Sartori Mio fratello Niente popo di meno Tommaso Orlandi Roberta Codavilla Ilaria Forlini C'è Ma c'è un sacco di gente oggi Silvia Baduica Addirittura Mia Sara Ci sono un sacco di persone Che ci stanno Che ci stanno seguendo E anche ovviamente Ale Cama Scusa L'ennesima interruzione Prosegui pure Addirittura Giulia Guicciardini Attenzione Attenzione Anche Placido Lo Sacco Ciao Placido Dove l'hai visto Placido Lo Sacco? Non l'ho vista Adesso Eccolo qua Ciao Placidone Che ci sentirà Fra un minuto Tra l'altro Perché Come tutti sapete C'è una differenza Di quasi un minuto Tra quello che noi Stiamo dicendo In questo momento E quello che viene Trasmesso Nella live Di Tu mi scrive Cristina No ti voglio bene Scusami Stavi dicendo Scusami Giacomo Adesso spero di Lui Ha varie peripezie Perché comunque Diventa un personaggio Ricco Perché gestisce bestiame Commerci Eccetera Fa famiglia Lì Ha dei figli A un certo punto Viene sfidato Da un certo Eroe Di alcune tribune Emiche Di questo Re siriano E Viene sfidato Di minaccia pure Di rubare Di bestiame Tu pensa Cioè È una cosa Che all'epoca Se tu mi minacci Di Di Rubarmi bestiame Io vengo E ti sparo Capito Ti sparo no Perché No È come dire Adesso Vengo lì E ti sparo Vengo lì Ti rubo il bestiame Perché ai tempi Non è che ci fossero Le armi da fuoco Giusto Tu mi insegni Ti insegno che non c'erano Le armi da fuoco Magari ti bruciavano Incendiavano le cose Ma non le armi da fuoco E lui addirittura Dice N V Mi K A N V N N N N K 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 Che risposta Secondo te Cosa può aver detto Sinue Guarda Non so cosa abbia detto Ma secondo me Questa sicuramente Clippa Questo è In gergo Per chi si occupa Di audio Questa sicuro Che ha clippato Cosa vuol dire Sarò Come un toro Che incorna Un altro Per dominarlo Pensa che minacce Le minacce Del 1500 Avanti Cristo Sono strano io O sembra una roba Vagamente Un po' Un po' strana No perché Strana per te Perché sei nato 3500 anni dopo Cioè voglio dire Ovvio che per te è strana Per loro era così Cioè il riferimento Era il bestiame Tutto praticamente Il mondo Delle metafore Era rivolto a quello Probabilmente Quindi E comunque vince Perché lo fa fuori Con arco e frecce Quindi questo Eroe Che non è nemmeno Nominato Muore Così Però Come tu sai Gli egiziani Hanno Questa fissa Del culto Dei morti Avevano Questa fissa Del culto Dei morti Per cui Spendevano Cifre immense Per fare Le robe funebri Era proprio Una questione loro In cui tenevano Tantissimo Sente l'esigenza Di tornare in Egitto Per avere Una degna Sepoltura E fare la vita E non morire Perché Il senso Qual è Tu non muori Quando muori Col corpo Secondo la Traità dell'epoca Muori Però dopo c'è la vita Nell'oltre tomba Ma se non vieni Seppellito Con un certo modo Con certi riti Eccetera Muori davvero Cioè Non hai la vita Nell'oltre tomba Ok Quindi lui Per non morire Fa sapere A Sesostri Che è diventato Nel frattempo Faraone D'Egitto Perché ha vinto La guerra civile Tutto ciò è vero Abbiamo le piramidi Di questi due faraoni Quello che serviva prima È questo del figlio Sono visitabili Sono le ultime Grandi piramidi D'Egitto Dopo si è persa La conoscenza Su come farle Le piramidi Sono grandi Tipo un quarto Di quelle di Cheope Sì Per dire Ogni lato del quadrato È 58 metri Cioè Scusami No L'ho segnato qua 84 metri di lato Per 58 d'altezza E sono un quarto Di quella di Cheope Voglio dire Tu immagina quella di Cheope Che però è più vecchia Di 2000 anni Rispetto a queste E Comunque Lui vuole Tornare in Egitto E qui abbiamo Un artificio retorico Fantastico Perché Introduce C'è scritto qua Il documento Che il faraone Sesostri Redige Per fargli sapere Che sì Torna pure Non ce l'ho con te Perché sei fuggito Torna E Lui Gli risponde Dicendo Va Che Vorrà dire Probabilmente Non sono Completamente D'accordo A metà con te Esatto Vuol dire Odi le mie preghiere Di esule Sono vecchio Stanco Eccetera E lui Poi riceve Appunto La lettera Del simpatico Sesostri Dice Cioè bellissimo Per evitare Che i nuovi arrivati Pensino che siamo Totalmente impazziti O che stiamo In qualche maniera Perculando Chi ci guarda Vogliamo ricordare Che Stiamo O meglio Giacomo Sta parlando Sta raccontando Della prima Autobiografia Della storia Cioè La prima Autobiografia Che ci sia Arrivata E quindi Siamo Nell'antico Egitto Giusto Giacomo Scusami Eccomi Sì Praticamente L'avventura Di Sinuè La prima Autobiografia Di cui ci è arrivata Traccia Praticamente Del 1500 a.C. Letteratura Dell'antico Egitto Questo servitore Di un impero Di un faraone Va in Siria Per rifugiarsi Dopo Un casino Di guerra civile Che è attestata Storicamente E adesso Questa è la fine Della sua vita Che è stanco Con braccia stanche Lui afferma Vuole tornare E ci riesce Quello Un'altra cosa interessante Che lui Il faraone Lo vive come Cioè Lo chiama Dio Cioè Perché sai che faraone Era considerato Una figura divina E in questo In questi brani In queste pagine Lui si rivolge sempre A sesostri Come Dio Cioè Proprio Come se avesse Un rapporto personale Con Dio Ed è È proprio così Cioè Quindi Anche questo Ci dà proprio Una dimensione Dell'epoca Della cultura Dell'epoca E infatti gli dice Capito Cioè Ti chiude il cerchio Sta frase qua Così Già Tanti giurcicci Ma Ci provo tantissimo Non ci riesco Bella Ale Senti ma Hai imitato Una bella battuta di Ale Sesostri L'ho vista Sesostri Levante Sesostri Levante Senti ma come finisce La storia Perché Così Finisce Che appunto Che vuol dire Non ci sarà paura Per l'occhio Che ti guarderà Finisce che lui appunto Viene accettato Si sa che andrà a morire Quindi in Egitto Che è arrivato in Egitto Morirà in Egitto Con tutti gli onori Sesostri Dà anche dei soldi Eccetera Lui le sue fortune Che aveva fatto in Siria Le lascia i figli Che lascia là E appunto Lui chiude dicendo Non ci sarà paura Per l'occhio Che ti guarderà Rivolto a Sesostri Detto Levante No non è bergamasco È un tentativo Di antico egiziano Però Ripeto Se andate a vedervi La prima puntata Avevo un accadico Che spaccava Sì è vero È vero Un testimonio Perché l'accadico Di Giacomo È veramente top Va bene Va bene Beh direi che Non mi sarei mai aspettato Che già 3500 3500 anni fa 3500 anni fa Già si facessero Le autobiografie Chissà cosa direbbe oggi Totti Per esempio Chi lo sa Non lo so L'Ori del Santo Aggiungo che È un grande best seller È stato un grandissimo best seller Ci sono arrivate un sacco Di versioni di questa Perché poi è stato adottato Come testo scolastico Per gli scrivi E quindi abbiamo Veramente tantissimo Tantissimo Tantissime tavolette Tantissimi cocci Perché allora si usavano Dei cocci di argilla Su cui incidevano Insomma Ce ne sono arrivate tante Guarda Cristina Cristina Ti rispondo in diretta Ti dico sì Non vedo l'ora Che durante la registrazione Del Gormiti Show Potevo dirlo? Sì dai Potevo dirlo Ovviamente In assoluto E rigorosissimo Regime di distanziamento Noi parleremo in antico egizio Magari ci riguarderemo anche Ci faremo magari dare Qualche indicazione Da Giacomo Grazie Tommaso Io direi che possiamo passare Alla prossima rubrica O rubrica E vai Le tendenze Bene Oggi la tendenza È un po' Un po' Anomala Esatto Io sono Allora Sappiatro Io non so nulla Non so nulla Perché spesso Noi nell'impostare Tutto ciò Io non dico niente Ad Andrea Dico guarda Sarà sta cosa qua Ma non è che Più di tanto Ci si organizza Cioè è tutto vero Dicendolo adesso Insinuerò il dubbio Negli ascoltatori A volte di più A volte di meno Ma oggi in particolare Mi sono preso Molto molto bene Da che cosa? Allora Faccio Stavolta parliamo veramente Di podcast Anche prima in realtà Parlavamo di Di argomenti attinenti Assolutamente attinenti Attinenti al podcast Ema le siglette Cristina Purtroppo In questa situazione Un po' provvisoria Non riusciamo A mandare le siglette In tempo reale Perché siamo organizzati Male Eh? Siamo organizzati male Siamo organizzati molto bene Per la situazione contingente In cui siamo Scusami Ecco C'è niente C'è proprio Le donne più vicine Ci stanno trollando Incredibile Veramente Grazie Ciao Madda Salutiamo anche Maddi Dal Bar Madama Di Bresso Tra l'altro Sede di Almeno Un cortometraggio Prodotto Prodotto da noi Ma veniamo alla tendenza La tendenza Che cos'è? Partendo dal Come dire Dalla fonte Su cui io mi approvvigiono Per vedere quali sono I podcast Di maggiore tendenza Che è Chartable Scritto Chartable Che è una figata Perché è internazionale Mondiale Quindi ti dà Praticamente Le classifiche Dei primi 200 podcast Presi da Apple Podcast Google Podcast Messi credo insieme Ma forse anche Spotify Si può comunque andare a cercare Molto bene Poi tutte le classifiche Eccetera Per chi è un po' preso bene Dalle classifiche Io lo sono E stavolta Per curiosità Sono andato a vedere Quali fossero I top 10 Podcast In India In India Infatti In India In India Perché l'India? Perché hai scelto l'India? Allora perché l'India? Perché ho pensato Ad una nazione Clamorosamente popolosa Sai quanti abitanti ha l'India? Un miliardo tipo? Magari No Censimento del 2020 Sono quasi Sono praticamente Un miliardo e 400 miliardi Wow Cioè praticamente Me ne ricordavo 120 Italia Tipo 120 Italia Quindi sono tantissimi Quindi è un Come dire Un panorama E anche un bacino d'ascolto Enorme Ok Però cosa ho scoperto? E che quella cosa Mi ha stupito tantissimo E mi ha fatto Mi ha portato A fare anche una riflessione Scusami Come dice Daniele Bollicast Esatto Bellissimo È vero È vero È vero È vero È vero Che cosa succede? Praticamente guardando E ascoltando Soprattutto le prime Cinque posizioni Dei cinque podcast Bio ascoltati In India Quindi da Diciamo Un bacino potenziale D'utenti Di un miliardo e 400 milioni Di persone Poi lo sappiamo Che l'accesso ad internet In India Ce l'avranno Molte meno persone Praticamente I primi cinque I primi cinque Scusami Nei primi cinque podcast Più ascoltati I primi quattro Sono in lingua inglese Prima di vedere Un podcast In lingua Hindi Che è Diciamo La lingua più parlata La lingua ufficiale In India Oltre Oltre all'inglese Che è un'ex Colonia Essendo un'ex Colonia È l'Indie Ok Però I primi quattro podcast Sono in lingua inglese Ma non solo Tra i primi quattro podcast Il primo È di un Io credo sia Un inglese Di origini indiane Però è un inglese Quindi non è un Un indiano Che parla inglese Quindi In India C'è Ci sono Scusami C'è Alecama Che ha fatto Una battuta Bellissima Perdonami Caccuta è la lingua Indie È vero È vero Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Però mi sa Caccuta si parla di più Il Bengali Che l'Indie Quindi Esatto Ed è Ed è un podcast Di motivazione personale Al secondo posto C'è il podcast Invece Di un indiano Che parla inglese Nel modo Che Si può intuire Quindi è come se Noi parlassimo in inglese Anche quello Sulla motivazione Quindi intervista Delle persone E per arrivare A un podcast In lingua indi Si arriva Al quinto posto Ok Ora Per l'Italia Non è esattamente Ovviamente La stessa cosa Perché l'inglese Non è la Non è una lingua Ufficiale Da noi Però sicuramente È la lingua straniera Più parlata Questo che cosa Mi ha fatto pensare Che probabilmente Per avere Come dire Accesso ad un mercato Veramente internazionale Probabilmente Per chi Potesse essere In grado Di farlo L'idea dovrebbe essere Quella di fare Un podcast Questo chiaramente Per l'italiano È È un paradosso Guarda Prossima puntata In inglese Andrea Ci prepariamo Però lo dico Perché Perché Magari Se qualcuno Avesse veramente Aspirazioni Da podcaster A livello internazionale Probabilmente La strada Migliore Sarebbe quella Di andare Verso l'inglese Ok Che sembra Una follia Sembra veramente Una follia Però Dipende Dall'età Che si ha Dipende Dal livello Dipende Anche Dalla capacità Di Come dire Di tradurre Poi In lingua inglese Quello che si sta dicendo Ok Però Ripeto C'è la cosa che mi ha fatto Veramente specie E andare Spulciando Proprio Tra i podcast Più ascoltati E vedere Che prima di Prima di arrivare Ad una Lingua indigena Bisogna arrivare Al quinto posto Anche il podcast Che è in quinta posizione Parla di Motivazione personale Quindi Sembra che La tendenza In India Dei podcast Siano Podcast Sulla motivazione Quindi Quelli che per noi Sono Non so Quelli È come se I primi cinque podcast Fossero Tenuti Fossero quelli Di Roberto Re Di Marco Montemagno Di Che ne so O simili A proposito Scusami un attimo Ma come sono messi Quelli in classifica Qui in Italia Cioè Quelli motivazionali italiani Qui in Italia Eh guarda Devo andare a vedere Però Allora Vediamo T'ho colto in fallo Shards Eh sì Non ho guardato La classifica italiana Non volevo Allora A livello global Ovviamente C'è un crime Che si chiama Crime junkie Però In lingua In lingua In lingua inglese Ovviamente Vediamo se c'è Italy Come si farà a vedere Italian Chartable Prova a googolare Va bene Sì Intanto volevo dirti Che io comunque In inglese Ho già provato A fare una live Con Kama In cui abbiamo Cercato di Esportare Il prodotto Canzoni italiane Per l'estero Appunto Facendo una versione Azzurro Di azzurro Di Cerentano Scritta da Paul Count Paolo Conte Light Blue Che potete trovare Sulla pagina Di Kama Ma sai che Giacomo Scusa se ti interrompo Sì Ma sai che È totalmente Cambiata la classifica C'è un rumore Bianco di fondo C'è un rumore Bianco di fondo Vediamo se Mutando Mi sprecce Dipende da te Dipende da me E mi ammuto Vediamo Chi lo sa Per quale Bizarra ragione Vai a capire Non lo so C'è ancora Non si sa Si sente Proprio tipo Ah non è Ho capito Che cos'è È la ventola Del mio Mac Ragazzi Abbiate pazienza Del portatile È così Provo ad abbassare La luminosità È un portatile del 2011 Lo so che il ciabattino Va sempre con le scarpe rotte Però è così Comunque volevo dire Che la classifica di podcast Italiani più ascoltati È stata rivoluzionata Perché al primo posto C'è il nocciolo Al secondo la zanzara Al terzo di Oh hanno scherzato la zanzara Meno male Al quarto domani E al quinto Muschio selvaggio Della classifica Di tre settimane fa Praticamente hanno resistito Solo la zanzara E il muschio selvaggio Gli altri sono oltre La quinta posizione Sai cosa farò Chiuse questa live Andrò ad ascoltarmi Questi nuovi podcast Perché francamente Né il nocciolo Né se forse V'Essential Sì Ma né domani Li ho mai sentiti Quindi sono molto 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 curioso Vediamo Perfetto Va bene Io direi che possiamo Aspetta No 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 Non voglio proseguire La cosa Cioè tra l'altro Questi podcast qui Io non li ho ancora sentiti Questi qua indiani Cioè motivazionali L'inglese indiano Lo conosco bene Nel senso che Da due anni circa Seguo un po' Il cricket Sì va bene Scusate Succede E ovviamente L'India è tipo La È proprio la nazione Più forte in assoluto Al mondo Di cricket Spesso E È lo sport Sport più seguito lì Quindi sappiate Che uno dei giocatori Uno degli sportivi Più pagati al mondo Proprio nella top ten Dei giocatori Più pagati In qualsiasi sport È Virat Kohli Che è il capitano Dell'India Della squadra Di cricket È un fenomeno Bravissimo È fantastico Vederlo giocare E quindi appunto Quando guardi le partite Quindi in Italia Non le trasmettono Le guardo sempre Nelle televisioni straniere E ci sono sempre Gli ex giocatori Che commentano Indiani They talk like this It's very fun To hear them Commenting The cricket Talk like this Ti ringrazio Perché mi Ti ringrazio Perché mi offri La possibilità Di Farlo ascoltare A tutti Vai Vediamo se ci riesco Sono curioso Puoi farcelo Io credo in te Se partirà Mi nascondo Dietro lo schermo Vediamo se La mamma è unica La mamma è unica Con un regalo Pandora Eh lo so Purtroppo Un domenica 10 maggio Scegli tre gioielli Pandora Uno è un regalo Scopri di più E acquista Su Pandora.net Grazie Pandora Non è Non era Ah no scusami Questo è Questo è Ti faccio Sentire Ranvir Show Ti faccio sentire Ranvir Show Ripartirà Pandora Naturalmente Uno due tre Raftar Is considered One of the top Indian rappers In the modern day Hip hop scene In this country This episode Is primarily Going to be A Hindi episode So if you are Someone who doesn't Understand Hindi I'm really sorry Stop È vero Ale Lo sappiamo Infatti lo dico sempre Nelle partite di cricket Sento sempre Pandora 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 Dunque dai Sono simpaticissimi Mi fanno morire da ridere Sono fantastici Va bene Va bene Direi che possiamo andare avanti Andiamo avanti Tendenze dei podcast in India In realtà Era solo lo spunto Per far capire Che altrove Non si fanno Non si fanno problemi Ad ascoltare i podcast inglesi Mentre qui in Italia Siamo solamente Solamente Sulla lingua italiana Solo questo Grazie Sta facendo le battute Che avrei potuto fare io Forse E panettona Va bene Va bene Passiamo ai consigli Dello specialista Vai con la sigla Quando Cioè no In realtà no Dispiace Non chiamare le sigle Non chiamare le sigle Le potrete ascoltare Domani Sulla versione Rumorosa Del podcast Che pubblicheremo All'orario Dell'aperitivo Sul nostro canale Su Spreaker Su Spotify Su Apple Podcast Google Podcast Eccetera 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 Di cosa parliamo oggi? Oggi Parlava Mi ha deciso Di parlare di La voce Quanto è importante La voce In un podcast? Beh Tu lo stai chiedendo A me forse? Ciao Sara Te salutiamo Sara Che ci scrive Da Perugia Tu lo stai chiedendo A me? Io lo stai chiedendo A te Tu che Dobbiamo ricordarlo Andrea Sartori Per chi lo sapesse È stata voce Di Taluni Spot Nazionali Televisivi Voce Di Tante Tante Spicherate Varie Sendo lui Molto poliedrico Come personaggio È Dedito Ad attività Video Ma anche audio E anche di Spicheraggio Sappiatelo Quindi tu hai Una certa Probabilmente Tu la voce Insomma L'hai coltivata Da un punto di vista Proprio della cura Delle missioni Con tutte quelle Menate di tradizione Quindi tu Ne sai No Beh Ne so Insomma Fino a un certo punto Ci sono fior fior di professionisti Che non voglio assolutamente Offendere In questo momento E anche perché Ci lavoriamo Quindi Ciao Gianluca Ciao Pietro Ciao Lorenzo Grazie Grandissime Esatto No io dico Allora Secondo me La voce è importante Nel senso che Lo dico Vabbè Lo dico La speaker Dico che Come dire La preparazione della voce Parlare bene Magari non necessariamente La dizione Però La voce fa il suo Giacomo Che culo Se uno C'ha una voce a trombetta O un po' così Un po' gracchiante O c'ha una Un'intonazione O parla O parla Un po' Tutto Così Allora Scusami un attimo Allora Perché Alessandro Barbero Con la sua voce Che veramente fa schifo È tra i primi proposti Cioè Voglio dire Lui è proprio l'esempio C'ha una voce brutta E perché è un po' così A trombetta Come dici tu È un po' acutina È fastidiosetta Ha pure un accento piemontese Che Fa un po' simpatia Però nel senso La dizione Non ce l'ha Ed è pure Lui è registrato spessissimo Molto male Con magari un cellulare Messo davanti alle casse Nei podcast Suoi E Per cui Cioè No I risultati dicono Che non è così Oppure Ma questo Guarda Cioè Stai citando Un esempio Secondo me È l'eccezione Che conferma la regola Giacomo Cioè Barbero A parte che Barbero È registrato da un altro Quindi lui stesso Tu hai detto Che non si Non si definisce Un podcaster Anzi Sì Lui proprio Lui neanche lo sapeva Cioè Gli ha chiesto il permesso Ciao Lucrezia Vedi che mi stai dando ragione Vedi Giacomo Mi stai dando ragione No invece Perché secondo me Secondo me c'è ragione Dipende La mia risposta È Argomenta Dai Allora Secondo me Se devi fare Un podcast Di narrativa In cui appunto Racconti una storia E la commenti E ci Commenti E trai poi Dei temi Dalla storia Che stai narrando Probabilmente Quindi un podcast Più Figlio degli audiolibri Allora ti darei Anche ragione Perché effettivamente In quel caso Un'interpretazione Insomma C'è un ruolo attoriale E quindi anche Un'esposizione Una cura vocale Che può fare La differenza Però in tanti Dei podcast In cui ci sono Magari giornalisti Che ti raccontano Di economia Oppure commentano L'attualità Oppure Per quei podcast Che sono anche Di impostazione storica Ad esempio Che ho fatto prima Siccome potrebbe Anche sinceramente A meno che Proprio Non abbia una voce Veramente pessima Con una dizione Veramente orribile Con una cadenza Dialettale Veramente pesante Fastidiosa E Cioè Allora Ok Però In generale Secondo me Non è Che se uno Ha una voce brutta Deve dire No cavolo Il podcast Devo trovare qualcuno Che me lo fa Guarda Posso risponderti così? Si legge? Non credo Non credo Adesso argomento io Allora In realtà Potrebbe pure Essere Quello che tu dici Però poi Alla fine Guarda caso Cioè I più ascoltati O meglio Le cose che funzionano Di più Poi sono quelle Dove c'è Quanto meno Una preparazione Un'impostazione O quantomeno Una voce decente Guarda la radio Pensa alla radio Non ci può andare Una voce di cacca In radio Dai Non ha senso Questa roba qua Ci deve essere La preparazione Sennò Alla fine Tutti possono fare tutto Però Sai cosa ti dico? Di radio popolare Vedi che stai ridendo Perché lo sai Quelli con la EO Sì ok Per carità Radio popolare Adesso Con tutto il rispetto Per il lavoro di informazione Che fa radio popolare Però a volte Ogni tanto Effettivamente Viene da pensare Ma Li prendono Solo se hanno la EO O la R Perché effettivamente C'è una Ho detto una cosa Di un politicamente Scorretto Che verremo Verremo Un secco di seguito Verremo veramente Bannati Però Adesso A parte gli scherzi Ovviamente Stiamo scherzando Io quello che volevo fare Invece È provare A chiedere A chi ci sta guardando Voi come la pensate? Voi come la pensate? Cioè Secondo voi La voce O l'impostazione vocale È Importante O no? Che cos'è più importante? E il contenuto? Come viene preparato? Cioè Come viene impostato Il discorso? Che cos'è la cosa Veramente Veramente Importante? Beh Innanzitutto devo dire Che vabbè Kamal Su intervento Su Sartorino C'era il primo slogan Gira 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 Scegli Rotowash Adesso cantala Ti prego Gira 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 Scegli Rotowash Era esattamente così Era esattamente così E' quello che Ho pensato Due mesi fa Quando pensavamo Di iniziare questo progetto Che sarebbe accaduto Questo momento Quindi ora È un sogno realizzato Mamma Sartocchi Quanto sia positivo Per ragione William Sara Barbero come narra? Dipende dall'argomento Sì Chiaro Poi lui A narrare Bravissimo Barbero L'esposizione sua È fantastica Cioè Quello che dice Il contenuto È fortissimo Quindi Tu lo dimentichi Dopo due minuti Che ha una voce Veramente imbarazzante Vabbè Comunque Giacomo Socio Mi sa che la gag Non ci è riuscita Benissimissimissimo No Pensavo Vogliamo svedarlo? Vogliamo svedarlo? Sì Dai Svelala tu Giacomo Volevamo Litigare Lui doveva prendere Una posizione Io un'altra Apposta Però in realtà Sì Un'opinione diversa Ce l'abbiamo Ma non così Netta Cioè No Cioè un po' c'è Perché veramente Io dico Ok sì Dipende C'è un conto D'audio libero Dove se la voce è brutta Non ce la puoi fare Cioè io già Con gli audio libri Ho difficoltà Con i podcast Invece molto meno Però Una differenza La posso percepire Capisco che poi Tendenzialmente Quello che ascolto Comunque un minimo Di cura vocale C'è Però probabilmente Per te è più importante Questo aspetto Cioè sinceramente Una differenza Di gusti c'è Vedi Sì Ci hanno sgamato Subito Daniele dice Che facciamo cagare Litigare È vero Perché ci vogliamo Troppo bene Però vedi Allora Diciamo che in parte Lo scopo era Di provare a suscitare Una discussione su questa cosa Perché poi è sempre C'è un tema Assolutamente decorrente C'è cosa importante La forma O il formato Il contenuto O il contenitore La risposta Non c'è una risposta univoca Diciamocelo È personale Io dico direi che Secondo me è personale Alla fin fine Io invece Non la penso così Giacomo In questo senso Non la penso esattamente così Ma lo dico anche Anche quando parlo Di La forma senza Cioè Come dire La forma senza Il contenuto Non vale niente Resta una forma Da osservare O da ascoltare Basta Su questo Siamo Siamo Tutti d'accordo Sartori dovevi litigare Con Cristiano Usai C'ha ragione Daniele Però Però Il contenuto Basta Litigate come i tori Grazie Daniela Bella La questione qual è Secondo me Giacomo È che Un bel contenuto Con Una bella forma È il top Spacca Funziona Ed è il miglior risultato A cui si possa Inevitabilmente Aspirare Questo lo dico Perché A volte Magari Qualcuno Pensa che Possa Possa essere Sufficiente Solo una Delle due Ok Va detta una cosa E qui Come dire Spezza una lancia A tuo favore Che Un grande contenuto Con una forma Non perfetta Approssimativa Comunque funziona Alla fine Da maggiore profondità E resiste di più Resiste di più Film brutti Che avevano una storia Pazzesca Magari Non bellissimi Dal punto di vista Della recitazione Della recitazione O delle riprese O chissà Qualsiasi Però alla fine Magari Hanno resistito Ok Così come Le storie Diverso È un film Esteticamente Molto bello Ma senza nulla Magari ce lo siamo Già dimenticati Cosa determina Un buon contenuto Chiede Cristina Usai E qui ci fichiamo In un genebraio Allucinante Beh allora Secondo me Io un'idea Me la sono fatta Chi crea Il contenuto Deve essere Veramente esperto Di quello Di cui parla Quindi noi Che cacchio Abbiamo sto apericas Che non siamo esperti No Vabbè Comunque Devi essere Veramente Comunque Conoscere bene L'argomento Di cui parli Oppure essere Veramente molto Appassionato Di quello Di cui parli Perché Non c'è niente Da fare L'autenticità È un dato Non calcolabile Che però Filtra Attraverso L'ascolto Se c'è Della finzione Nel senso Se tu Parli di un Argomento Perché è L'argomento Del momento Che in realtà Non ti interessa O sei veramente Uno che Sei bravo Come attore Per cui ti studi La parte E riesci Comunque a bucare Studiandoti il contenuto Da esterno O se no Niente Non puoi farcela Contro chi Veramente Quell'argomento Lo vive In prima persona Ci tiene Ed è appassionato Secondo me Vince Chi Quei Creatori Di contenuti Che Sono veramente Appassionati Di quello Di cui Parlano E questo E questo vale Per chi Crime Nel podcast Come trincia Con veleno Per cui Non ha una gran voce Trincia Eppure veleno Spacca È un podcast Che vi consiglio È bellissimo Abbiamo già parlato Nelle scorse puntate È attualmente Uno Che è uno Di podcast Che è stato Più ascoltato In assoluto In Italia È stupendo Così come Barbero Di cui sono appassionato Comunque in generale Io noto Che Quelli che Riescono a scalare Le classifiche Sono quelli Che Imparano Dei contenuti Di cui sono Veramente appassionati E di cui sono forti Probabilmente Quella La differenza Poi certo Se il tuo contenuto È Che ne so Il trucciolato Dell'Ikea O il trucciolato Del legno In generale Probabilmente È talmente Un pubblico Di nicchia Che Non puoi emergere Però Probabilmente A chi piace Parlare Il trucciolato Ti ascolta Se sei appassionato Ecco capito È un esempio Per estremo Qui si aprirebbe Un'altra Grandissima Lunghissima Però forse Non pertinente Discussione Su quale Deba essere Su che cosa Determini il successo Ci domandano Giustamente Che cosa Determina Un buon contenuto E io la giro Che cosa Determina L'efficacia Di un contenuto La risposta Del pubblico A cui fai riferimento Cioè Se il tuo target È Il tuo obiettivo È raggiungere I cento falegnami Della provincia Di Milano E tu ne raggiungi Ottanta Hai Hai un contenuto Efficace Perché stai raggiungendo L'ottanta per cento Del tuo target Cioè Del tuo Certo Se tu invece Vuoi puntare Ai 60 milioni Di spettatori E ne raggiungi Un milione Tu dici Grandissimo Un risultato Della madonna Sì Perché hai raggiunto Un milione Di persone Magari Di quel milione Realmente in target Sono 5 10 Questo purtroppo È una cosa Che riguarda più Il marketing Un'altra cosa Che dice Secondo me Giustamente Daniele È che I tecnicismi Sono più Segmentali Cioè Le seghe Dei professionisti Anche questo è vero Anche questo è vero A volte Un'ottima esecuzione Rende Più soddisfatto Un operatore Il professionista Che l'ha fatta Che chi la recepisce È vero Molto spesso Molto spesso Dunque ringrazio Cavolo Accolgo la sfida Di Alecama Studieremo un podcast Sul trucciolato Va bene Va bene Va bene Siamo leggermente Sembriamo Scollegati Rispetto a quello Che stiamo dicendo O ai commenti Ma in realtà Non è proprio così La realtà È che siamo Scollegati Con noi stessi E quindi Magari possiamo Sembrare scollegati Con quello Che stiamo dicendo Nel senso che Non abbiamo La minima idea Di quello Che stiamo facendo Comunque voglio Segnalarti Giacomo Che siamo in diretta Da quasi un'ora Io direi Che a questo punto Potremmo Probabilmente Salutare Salutare tutti Ringraziarli Perché ci hanno Seguito Per un Siete stati splendidi Avete interagito Veramente In maniera Sconclusionato Dei nostri podcast Vero Eh Non ho capito Direi che forse Ci hanno seguito Li ringraziamo Perché ci hanno seguito Nel più sconclusionato Dei nostri Podcast Non so come potremmo Faremo a tirare fuori Un podcast audio Da tutto questo Ma lo vedremo domani Direi che a questo punto Salutiamo Con le solite raccomandazioni Eh Se ci volete seguire Eh Ci trovate O volete sapere Quello che facciamo Se non ci conoscete Noi siamo i fondatori Di KeyMotions Che è una casa di produzione Audio e video Quindi facciamo anche podcast Di professione Per altri Eh Oltre che a Come dire A divertirci A farli A farli per noi Ci trovate sul nostro sito KeyMotions.it KeyMotions K e Y So che Cristina Sarà contentissima Dalla mia colto action Yeah Cristina di Creativi Digitali Che si occupa Della nostra comunicazione Eh Oppure su Facebook Su Instagram Ci trovate su LinkedIn Sulle pagine Aziendali Ma anche sui nostri Profili personali Domani Lanceremo Il podcast Audio Con le sigle Per i fan Le sigle Che devo dire Sono veramente Veramente fighe Quindi a questo punto Non resta che salutarci Io non ho finito il vino A questo punto Però lo faccio alla goccia Per me il gin tonic È già un ricordo Adesso andrò a fare un refill Prima di fare le pizze Che ci aspettano stasera Ci aspettano le pizze Ciao a tutti A settimana prossima Ciao belli